Le misure di sostegno al reddito. Il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà. Si tratta di un sistema economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e dell'inclusione sociale. Il reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici di cittadinanza e di residenza. Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la carta reddito di cittadinanza, ed è condizionato all'adesione a un percorso di accompagnamento al lavoro e all'inclusione sociale, che, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario, prevede la sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, la DID, e del patto per il lavoro presso il centro per l'impiego, ovvero del patto per l'inclusione sociale presso i servizi sociali dei comuni. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore ai 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore ai 67 anni in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di pensione di cittadinanza. Il beneficio può essere richiesto presso le poste italiane, in modalità telematica accedendo al portale reddito di cittadinanza.go.it, presso i centri autorizzati di assistenza fiscale, CAF o patronati o in modalità telematica attraverso il sito IMS. Grazie a tutti.